Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo Prometeo rubò il fuoco a Zeus e Prometeo lo regalò all'umanità facendo anche una fine, che vi ricordate? Legato a una roccia con un'aquila che gli mangiava il fegato. Vi ricordate la fine? Io spero di non fare quella fine lì, regalando il reddito a quelli che ne hanno bisogno, 10 milioni di persone in Italia, perché è impossibile far finta da stupidi, oltre che da ingenui. Grazie a tutti. Italiani, vi dite adesso per favore. Allora, con questo gesto simbolico noi diamo il significato a questa marcia che è una marcia non per l'assistenzialismo, ma perché vinca l'intelligenza sulla stupidità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Contrabbandare la crescita come unico sistema di vita di politica economica. Fiamma illumina le mele. Fiamma. Guardatemi, 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 tra un po' andremo a votare e quando avrete votato, guardatemi, non vi ricorderete più perché vi si è votato. Allora, guardatevi, guardatemi, 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 guardatemi. Grazie a tutti.